Ancora qui in diretta nei nostri studi con l'assessore dei lavori pubblici Marco Lacarra pronto a rispondere alle vostre domande. 080 501 9998 il numero per intervenire. Stavamo parlando di Piazza Cesare Battisti. Ecco, sul capitolo documentazione si è aperto un altro dilemma nel senso che c'era stato uno stop dei lavori perché la ditta non aveva adeguato alla nuova normativa antincendio una parte del cantiere. Adesso i lavori stanno proseguendo con l'assunzione di responsabilità da parte della ditta in attesa di adeguarla alla nuova normativa antincendio che però risale al 2007. Questo sarà evidentemente un ostacolo anche nell'acquisizione della documentazione in vista dell'agibilità che sarà concessa dal comune. No, per quel che mi risulta assolutamente non ci sono problemi da questo punto di vista nel senso che c'era da completare alcune piccoli interventi di completamento che riguardano il garage ma ritengo che siano tra l'altro già stati superati. Non stiamo parlando di... Succede sempre, del resto chi ha seguito cantieri in generale che necessitano dell'autorizzazione del certificato prevenzione incendi sa benissimo che i vigili del fuoco intervengono a cose fatte e non suggeriscono eventuali modalità di modifica dell'intervento ma si limitano a dire così non va, dovete farlo in un altro modo. Quindi è una cosa che è assolutamente di prassi quindi è normale che accada in relazione a un'opera così importante come quella appunto del parcheggio. Capita anche per esempio per un negozio, per un'attività commerciale per la quale è necessaria il certificato di prevenzione incendi i vigili del fuoco fanno questi sopralluoghi, verificano e poi danno eventualmente delle prescrizioni che si è tenuti ad osservare. È accaduta la stessa cosa anche per il parcheggio. Al di là delle varie vicissitudini del stop imposto dalla magistratura, ad oggi siamo a 100 giorni di ritardo. Il resto è stato riportato non soltanto dalla nostra ammittente ma su vari articoli di giornale 100 giorni di ritardi che quantificati in termini economici si attesterebbero sui 400 mila euro ad oggi di penali che la ditta dovrebbe pagare. Del resto è previsto dal codice degli appalti che nel momento in cui una ditta dovesse consegnare un'opera in ritardo dovrebbe pagare delle penali visto che a prevederlo è la legge. Tuttavia il Comune non ha ancora attivato questo percorso per il pagamento delle penali da parte dell'impresa. È evidente, aspettiamo la consegna dopodiché verificheremo i tempi di ritardo. Tenete conto una cosa che credo da quale non si possa prescindere. Il ritardo in questo caso, in considerazione della particolarità dell'opera, penalizza l'impresa più che il Comune. È vero, penalizza ovviamente i residenti per il disagio, per carità, però la stessa impresa è penalizzata dal fatto di non poter utilizzare l'opera e non poter trarre profitto dal parcheggio. Naturalmente questo però, anzi, è all'esame già dei tecnici e sarà considerata dei tecnici al momento della consegna dell'opera alla città, il tempo trascorso ed eventualmente l'applicazione delle penali. Beh, adesso il Comune batte cassa ai cittadini con la tasso e tutto quanto, quindi in vista dell'eseguità credo che non si possa donare qualcosa. Saremo assolutamente puntuali e precisi e insomma saremo... Sperando che non aumentino ulteriormente i costi del parcheggio, sia della tariffa oraria che quella del parcheggio per l'acquisto appunto del posto auto, visto che nella perizia c'è stato... Beh, attualmente credo che insomma i cittadini non possano lamentarsi del costo orario, perché se consideriamo che attualmente chi parcheggia fuori della piazza, nelle aree limitrofe, paga 2 euro all'ora, all'interno del parcheggio pagherà 1,50 euro all'ora, quindi comunque complessivamente mi sembra che sia già vantaggioso. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Io abito a Palese, abbiamo un discreto lungomare, abbiamo un'acqua carissima, però l'accesso al mare è difficoltoso. È possibile far costruire delle passerelle, dei pontini, poter accedere con maggiore facilità in acqua? Sì. Perfetto, grazie per il suo intervento, magari non come quelli di Torre Quetta, scherzo perché non è che abbiano avuto proprio un risultato eccellente. Per quanto riguarda gli accessi al mare, noi abbiamo già fatto dei primi interventi proprio su Palese, prima della scorsa stagione, insieme con il Presidente dell'Iso abbiamo concordato una serie di interventi e ci accingiamo a farne altri nelle prossime settimane, non appena il tempo ci consentirà ovviamente di intervenire. Anche perché in vista della stagione estiva immagino. Infatti, in vista della stagione estiva. Tra l'altro, personalmente, proprio per evitare di eseguire questi interventi a stagione già iniziata, perché che cosa accade? La disponibilità della somma, come voi sapete, per intervenire sulla manutenzione, per le opere di manutenzione, si ha dopo l'approvazione del bilancio. Il bilancio di solito si approva alla fine del mese di marzo, se si rispettano i tempi, se no si può andare anche alla fine del mese di aprile, utilizzando il termine di proroga. A quel punto noi abbiamo la disponibilità materiale della somma non prima di un mese dopo l'approvazione del bilancio, quindi da fine maggio o metà giugno, quando ormai la tempistica è tale per cui si arriva in ritardo rispetto all'apertura delle spiagge e all'inizio della stagione. Quest'anno io ho chiesto all'assessore Giannini e ho tenuto di ottenere una disponibilità finanziaria che ci consente di avviare la manutenzione degli accessi al mare e delle spiagge con danaro del 2010, quindi già poterlo utilizzare immediatamente nei primi mesi del 2011. Stiamo aspettando che il tempo migliori perché così avvieremo lungo tutto il litorale, interventi di manutenzione, così la stagione inizierà con le strutture già pronte. Parlavamo della caserma Rossani, visto che c'è questo bando che concede locazione, non riusciamo a parlare della caserma Rossani perché continuano ad arrivare telefonate, ovviamente la priorità è come sempre i cittadini, quindi parola al telespettatore in linea e poi continuiamo a parlare della caserma Rossani. Pronto? Pronto, buonasera a tutti e due. Buonasera. Buonasera. Assessore Lacarra, potrei farle una ricetta? Certo. Se è possibile. Allora, io abito in via Pitagora, dove è il mercato? Sì. È un continuo veramente proprio danno, perché i marciapiedi rovinati perché ci poggiano su camion, api e cassette, non si può passare. Se piove non si può passare con l'ombrello, tir che non finiscono mai, stanno rompendo tutti i marciapiedi e le persone sono costrette ad andare nel mercato per andare da una parte all'altra. Poi tra una bancarella e l'altra non c'è mai lo spazio per passare. Allora, le chiedo, potrebbe interessarsi prima di tutto a dire ai vigili di venire ogni tanto a fare un controllo? Poi un'altra cosa, il mercato quando va via? Da ringrazio. Grazie, grazie per il suo intervento. Grazie signora, grazie anche perché mi permette di parlare del mercato di via Pitagora, che è una delle questioni che mi ha appassionato in questo primo anno di assessorato e che mi sta impegnando in queste ultime settimane per fare in modo che veramente in tempi rapidissimi il consiglio possa approvare la variante urbanistica e il progetto preliminare in variante urbanistica per poter finalmente consentire il trasferimento del mercato di via Pitagora in quell'area che è sita su via, in questo momento, dunque, allora noi lì abbiamo via Pitagora, via Leia Pigia, via Peucezia, non mi veniva la via, abbiamo un'area dismessa che è utilizzata adesso come parcheggio delle autovetture e andremo a realizzare lì il nuovo mercato. Il progetto preliminare è già stato realizzato dall'architetto Ferrari e siamo quindi in condizioni a breve di far andare in consiglio la proposta di deliberazione, appunto, avente per oggetto la variante urbanistica, dopodiché io confido, incrociando le dita, so che ogni volta che parlo di date poi rischio di fare brutte figure, però questa volta correrò il rischio e entro quest'anno mi auguro veramente di avviare il cantiere. Si sono stati già diversi incontri anche con le organizzazioni sindacali e dei commercianti, abbiamo avuto incontri con i proprietari di quell'area, è un'area privata, l'area dove andrà a realizzarsi il mercato e abbiamo anche raggiunto un accordo di massima sull'entità della somma da corrispondere, evitando quindi la procedura di esproprio e procedendo alla cessione volontaria dell'area. Quindi abbiamo fatto passi importantissimi avanti verso il trasferimento dell'ultimo mercato giornaliero a cielo aperto che abbiamo a Bari. Un'altra telefonata, pronto?